Il sintomo è un fastidio che può essere più o meno intenso a seconda dell'età del paziente, più intenso negli anziani, più lieve nei bambini e questo sintomo può diventare anche molto fastidioso e addirittura doloroso. Il sintomo però è in sede diversa a secondo del ganglio interessato, quindi se noi avremo un ganglio che innerva una parte della pelle della testa, avremo una sensazione come di micrania, se invece questo nervo avrà come irrorazione il torace, il paziente penserà a un dolore intercostale, se il paziente l'ha sull'arte inferiore penserà a una sciatica, fino a che le vescicole non compaiono. Grazie